Ciao amici, sono Aurora, ho 9 anni e sono nella mia stanzetta. Da qui parte la mia grande passione per la lettura. Ho letto tantissimi libri e mi piacerebbe leggere tanti altri. Dalla mia cameretta spesso mi capita di vivere grandi viaggi lontani, bellissimi e curiosi. Mi piacerebbe venire con me in questo viaggio? Ciao a tutti! Grazie!